Grandissima novità per Belen Rodriguez. La showgirl argentina aveva fatto parlare di sé negli ultimi tempi a causa della sua assenza dai social e dal programma Le Iene. Lei era stata sostituita da Claudio Santamaria e tutti i fan si erano preoccupati per le sue condizioni di salute. Infatti pareva che non stesse molto bene. Poi si è parlato addirittura di crisi con Stefano De Martino. I malpensanti hanno fatto alcune supposizioni poiché non c'erano più foto sui social che le ritraevano assieme. Ma De Martino ha smentito tutti i rumors di separazione postando sui social una videochiamata con Belen e ora arriva una clamorosa indiscrezione proprio a causa di un like della showgirl argentina. Da giorni si rincorrono le voci che riguardano Belen e parlano di una possibile terza gravidanza e la risposta arriva dalla diretta interessata. La showgirl ha postato una foto di sé molto prorompente e un fan le ha chiesto Belen aspetti il terzo figlio? Su questa domanda è apparso proprio il like di Belen. Una conferma o una semplice svista? Lo scopriremo!